Ciao a tutti, da Enrico Caffarelli, supporta con un bel like questo video, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Roma-Empoli 2-0, ragazzi, dovrei essere soddisfatto, dovrei essere al settimo cielo, perché la Roma ha vinto, la Roma ha preso i tre punti, ma a me rote ancora il sederino, ragazzi. Ma non potevamo giocare così anche contro la Cremonese e portare a casa una semifinale che sarebbe stata fondamentale per la stagione? Perché adesso ditemi voi se la Roma potrà vincere l'Europa League, ma quando mai, ragazzi, ci sono squadre attrezzatissime, squadre che hanno rose migliori della Roma, adesso possiamo puntare ad un quarto posto, quello sì, quello sì, ma a me piacerebbe alzare anche qualche trofeo dopo la UEFA Conference League, onore a Mourinho e onore alla Roma, per carità, che ce l'hanno regalata dopo tanto tempo, quindi non possiamo dire nulla. Però quest'anno era allettante, era allettante la Coppa Italia, era la nostra portata dopo che Napoli è uscito con la Cremonese. Potevamo andare in semifinale e non ci siamo andati, però ragazzi, vabbè, dai, lasciamo tutto dietro le spalle, sono ancora un po' avvelenato, potete capirmi, scusatemi. Oggi, buona Roma, soprattutto il primo tempo, ha iniziato col piglio giusto, l'approccio è stato positivissimo, così deve sempre cominciare le gare la Roma, con la grinta, con la voglia, con lo spirito di squadra, cosa che non ho visto con la Cremonese. Vabbè, ritorno sempre sulla Cremonese. Ha iniziato benissimo, aggredendo l'Empoli, prendendo subito i calci tangoli, andando alti, segnando subito, non sbagliando davanti l'aria. Così deve giocare una squadra, così. Non bisogna essere mosci, impalpabili. Così bisogna giocare, ragazzi, bisogna giocare, anche perché l'Empoli è una buona squadra. L'Empoli è andato a vincere a Milano, ha pareggiato con la Lazio. Sta giocando un ottimo campionato l'Empoli. È onore all'Empoli, è un'ottima squadra e l'abbiamo visto anche al secondo tempo. Il secondo tempo la Roma, ovviamente, stava vincendo 2-0, si è chiusa e lì è venuto fuori il gioco un po', diciamo, difensivo di Mourinho. Però è anche normale, ragazzi, perché stava a vincere 2-0. Dopo avrei sfiorato il 3-0 perché Vigario è stato magnifico su un'azione. Tre parate in una sola azione, la parata a Mancini, a Dybala, a Mancini e ad Abram. Tre parate in un'unica azione, Vigario spettacolare. Sarà il futuro dell'Italia, della nazionale italiana, secondo me, Vigario, ragazzi. È uno dei portieri più forti attualmente in Italia. E spero che la Roma lo possa prendere, ma ne dubito perché non può spendere la Roma per il finanziario. Quindi l'Empoli ha giocato bene al secondo tempo, mi è piaciuto tanto. Speravo che la Roma chiudesse prima la partita con un bel 3-0, però questo, ahimè, non è arrivato. A proposito, ho azzeccato il pronostico. Vatti a guardare il mio video precedente dove facevo i pronostici e i risultati esatti. E questo della Roma l'ho azzeccato. Finalmente ne ho azzeccato uno. Che dire, ragazzi, sono molto soddisfatto della vittoria perché adesso facciamo un bel balzo in avanti in classifica. E la Roma deve giocare sempre così. La Roma deve giocare sempre così. Deve rispettare l'avversario e aggredirlo fin dall'inizio. Non può essere demotivata, sconcentrata. Mi ruote proprio tanto, ragazzi. Ci ritorno sempre, vedete? Ci ritorno sempre perché era proprio... Quest'anno ci credevo proprio. Ci credevo, ci credevo. Perché il Napoli, cioè, non affronti il Napoli che è la squadra più forte d'Italia, se non d'Europa. C'hai la Cremonese. Poi dopo, in semifinale, te la giochi, perché non è detto che andavamo a scendere anche con la Fiorentina, per carità. Però, doppio confronto con la Fiorentina, va in finale all'Olimpico. E poi, vabbè, certo, la finale, tutto può succedere. Però, intanto, stai in finale. Mai come quest'anno. Però, ragazzi, è andata così. Ottime prestazioni oggi di Zaleschi e Esciarawi. Mi sono piaciuti molto sulle fasce. A proposito di Esciarawi, a Mourinho, che ha trovato proprio il suo ruolo, quello è il ruolo di Esciarawi. Facesse giocare sempre lui. Poi, come al solito, Matic. Ottima prestazione di Matic. Anche Cristante mi è piaciuto, devo dire. Non è andato male oggi Cristante. Pellegrini ancora non lo vedo bene, ragazzi. Non lo vedo bene. Non lo so cosa c'è a Pellegrini. Io mi aspetto molto di più da lui. L'altro anno faceva la differenza. Quest'anno, invece, lo vedo proprio in difficoltà. Fa la sua partitina, il suo compitino. Niente di più. Di bala. Ha giocato per la squadra. Oggi non ha fatto, diciamo, queste grandi giocate che ci aspettiamo da lui. Però è stato ottimo per quanto riguarda il gioco, la prestazione in toto della Roma. Ottimo anche Abram. Mi è piaciuto molto Abram. La difesa oggi impeccabile. Difesa straordinaria. Volevo fare un plauso anche a Mancini, che oggi è stato corretto, è stato zitto. Non ha dato schiaffi. Non ha dato cazzotti, garci. Così devi giocare ai Mancini. Così. E giochi anche meglio. Stai più calmo. Eri troppo nervoso. E se oggi sei stato calmo, tranquillo, hai fatto un'ottima partita. I Bagnez straordinario come Smalling. Oggi la difesa, non possiamo dirgli nulla, ragazzi. Sono stati insormontabili. Non hanno fatto uno sbaglio, un errore la difesa oggi. Perfetti. Quindi, ottima prestazione. Potevamo fare il 3-0. Anche l'Empoli poteva fare il 2-1. Infine, a fine del primo tempo, bisogna dirlo, si è mangiato un gol. Non mi ricordo come si chiama. Quello, ho detto, 2-1 per l'Empoli. Invece è andata fuori. Però poi, dopo, a inizio del secondo tempo, non potevamo fare il 3-0. Perciò, 2-0, va bene così. Partita vinta. Tre punti presi. Ci vediamo alla prossima partita, ragazzi. Lascia un like per supportarlo questo video. Iscriviti al canale, perché io tratto anche le altre partite. Non soltanto la Roma. Io sono innamorato, sì, della Roma. Ma anche del calcio. Ciao, alla prossima.